Tra i 800 evasori scoperti da riscossione Sicilia ci sarebbero due politici, un partito, commercialisti notari e noti imprenditori. L'elenco dei presunti evasori è stato consegnato alla Procura, dopo la conferenza stampa indetta lo scorso mercoledì dal presidente Crocetta per denunciare i grandi evasori. I fondi sottratti al fisco siciliano, secondo un primo calcolo, ammontano a un miliardo di euro. I due politici segnalati nei faldoni consegnati alla Procura sono l'ex capogruppo dell'Udc a Lars Rudy Mayra e l'ex deputato dell'MSI Alberto Acerno. Mayra risulterebbe debitore di 5 milioni di euro, mentre Acerno di un milione e mezzo. Il gruppo parlamentare che risulterebbe debitore di 2,3 milioni di euro è il partito socialista siciliano. Il tributarista palermitano Gianni Lapis, già condannato perché ritenuto riciclatore del tesoro di Ciancimino, sarebbe debitore di 700 mila euro. Nell'elenco degli 800 evasori ci sono anche due notai, l'agrigentino Antonino Pusateri e il siriacusano Sergio Marciano, che risulterebbero debitori rispettivamente di 3,2 milioni di euro e di 742 mila euro. E sempre a Siracuzza, l'avvocato Luciano Puzzo e il commercialista Guilmo Drago avrebbero evaso rispettivamente 937 mila euro e un milione di euro. Mercoledì, a margine della conferenza stampa, erano già emersi i nomi di Massimo Ciancimino, che sarebbe evasore di 54 milioni di euro e Faustino Giacchetto di 14 milioni di euro. Oltre a casi di disoccupati e piccoli operai che risultano nullatenenti o quasi, pur avendo barche e aerei. Anche l'impresa palermitana Trionfante, noto come il mercato dei mobili antichi, risulta avere evasso 3,9 milioni. Ma l'imprenditore Maurizio Trionfante si è difeso sostenendo che le somme sono l'iva fatturata e non pagata, perché ha ancora crediti da riscuotere dei clienti. Mentre Maira precisa che al massimo si potrebbe parlare di elusione, non di evasione, è già affatto ricorso. Comunque, non tutte le tasse vase, se recuperate, entreranno nelle casse della regione, perché in alcuni casi andavano pagate a Stato o Comuni. Il caso degli evasori è tuttavia solo all'inizio e occuparsene è il procuratore di Palermo, Francesco Lovoi. Migliaia di posti di lavoro a rischio. In Italia, il comparto della TV locale rischia di sparire. Molte frequenze di trasmissione assegnate per 20 anni, ora vengono tolte. Canoni per l'uso delle frequenze enormemente aumentati. Numeri sul telecomando ancora in discussione. Forti limitazioni alle attività trasmissive. Tutto ciò è inaccettabile. Le TV locali rischiano di spegnersi per sempre. Viene soppressa la libertà di informazione. Viene soppressa la libertà d'impresa. Viene soppressa la voce del territorio. Il governo deve decidere se vuole ancora le TV locali. Comunica. Global Security International. Global Security International. Gli specialisti della vigilanza e della sicurezza. Personale altamente qualificato. Pronto intervento. Controllo attività commerciali con tecnologie innovative. Global Security International. Servizi di scorta. Radio e telecamere. Telesoccorso 24 ore su 24. Vigilanza notturna e diurna. Vigilanza fissa. Punzonature. Trasporto valori. Global Security International. Consorziato Sicurgem. Contattaci per la tua sicurezza. Continua l'iter per la riforma delle pensioni con le correzioni da portare all'ARS. Ad essere rivista in particolare sarà la base su cui verrà calcolato l'importo pensionistico. Nella legge ad esempio viene utilizzato il termine trattamento stipendiale ma secondo l'assessore alla funzione pubblica Ettore Leotta sarebbe meglio utilizzare la parola retribuzione dal momento che si parla del totale degli introiti del dipendente in busta paga. Ma le modifiche per l'assessore non dovrebbero finire qui. Da rivedere c'è anche la previsione della revocabilità della domanda di prepensionamento su cui si è pronunciata anche Mariella Lobello dichiarando che tale modifica potrebbe creare delle diseguaglianze rispetto ai lavoratori delle aziende. Si è deciso quindi, dice la Lobello, di arrivare ad un accordo con i sindacati all'Aran entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge. Nel frattempo però il piano parte. Via libera poi all'esodo grazie alla pubblicazione della finanziaria sulla gazzetta ufficiale che avverrà nelle prossime ore. Tuttavia la tanto attesa e discussa l'approvazione del testo è stata rinviata la prossima settimana a causa del mancato incontro tra Crocetta e Baccei. Restano allora 60 giorni per fare in modo che l'Aggiunta corregga l'errore. In ogni caso sembra che la riforma arriverà presto dal momento che Baccei pensa che entro la fine del 2015 potrebbero essere quasi 1.100 i dipendenti che matureranno i requisiti per lasciare gli uffici. Ma proprio contro questa riforma si prospetta che siano in arrivo. Tantissimi ricorsi a cui tutti i sindacati stanno già lavorando. Dopo qualche giorno di tregua sono riprese le partenze dalla Libia verso le coste italiane. Gli ultimi soccorsi avvenuti nel canale di Sicilia hanno portato più di 2.000 profughi tra Lampedusa, Catania e Pozzallo. I migranti sono stati tratti in salvo in 11 operazioni di soccorso coordinate dal Centro Nazionale di Soccorso della Guardia Costiera a Roma e a cui hanno preso parte due motovedette della Guardia Costiera di Lampedusa, unita a navali della Marina Militare, mezzi della Guardia di Finanza e un mercantile dirottato dal Centro Nazionale di Soccorso. Più di 600 sono i profughi arrivati a Catania a bordo della nave della Marina Militare britannica. Tra loro ci sono anche molte donne, alcune delle quali incinta, e bambini che si trovano a bordo di quattro barconi a una trentina di miglia a nord dalle coste libiche. Una delle imbarcazioni, appena concluso il trasbordo di migranti sulle navi della Finanza, è affondata. Altri 100 migranti, invece, sono stati riportati in salvo da due motovedette della Guardia Costiera di Lampedusa. Il primo soccorso è scattato intorno alle 9 di giovani mattina, quando il pattugliatore Montesperone, impegnato nelle attività di polizia anti-immigrazione, ha intercettato un barcone di circa 15 metri, carico di migranti a una trentina di miglia a nord del porto di Zawara. Il soccorso alla terza imbarcazione è stato prestato dalla nave Spero della Marina Militare. Sul barcone c'erano 471 migranti, tra cui 139 donne e 37 minori. Gli ultimi 294 migranti, infine, sono stati salvati in una zona poco distante da quella dove erano state soccorse le altre tre imbarcazioni. Oltre 400 migranti sono arrivati a Pozzallo, nel Ragusano, a bordo di una nave tedesca. Quasi 10.000 progetti per l'edilizia scolastica, per un totale di 2,3 miliardi di euro già finanziati da fondi europei e statali. Ecco a quanto ammonta il numero di progetti fermi suddivisi tra Campania, Sicilia e Sardegna. Calcolato attraverso il lavoro di monitoraggio effettuato sull'edilizia pubblica dalla task force istituita dal Ministero delle Infrastrutture. Se il campione di circa 400 progetti analizzati è attendibile, ha spiegato il ministro Graziano del Rio, vuol dire che più di un miliardo è riprogrammabile perché i progetti sono stati superati. L'analisi si è concentrata su quelle regioni che presentano le problematiche maggiori, ma il controllo verrà esteso presto anche a Lazio, Lombardia, Puglia e Basilicata. L'esito dello studio è stato negativo per poco più della metà dei progetti analizzati, il 51%. Si tratta cioè di progetti non più realizzabili perché superati e non più necessari, ad esempio perché la scuola va ricostruita da zero ed è quindi inutile fare interventi migliorativi. Solo il 27% ha avuto esito positivo, mentre il 22% è in corso. Dai risultati emerge inoltre che il 62,5% dei progetti esaminati è fermo per inerzia. Gli interventi non sono bloccati per mancanza di risorse, ha sottolineato Del Rio, ma per mancanza di presidio amministrativo. Serve maggior disciplina amministrativa, bisogna far capire che l'azionista non è l'assessore ma gli studenti. Le altre criticità maggiori riguardano poi carenze del progetto, problemi con i finanziamenti e autorizzazioni. Ma il modello della task force di monitoraggio in collaborazione con il territorio non si fermerà alle scuole. Del Rio ha aggiunto infatti che il lavoro sarà esteso anche alle altre opere pubbliche. È un lavoro che stiamo preparando ed è una delle cose su cui si muove alla struttura di missione. Torna a svegliarsi l'Etna con una nuova attività volcanica dopo quasi tre mesi e mezzo di riposo. Nella notte tra il 11 e il 12 maggio le reti di monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato intorno alle 5.11 una ripresa dell'attività stromboliana, attività che è continuata fino alle 7 quando è stata registrata una collata di lava sommitale. Alle 12 invece si è fatto sentire anche il nuovo cratere di sud-est. Le emissioni di ceneri proseguono ancora adesso regalando ai cittadini etnei uno spettacolo unico. Boati e tremori tengono con il fiato sospeso gli abitanti, incerti tra l'essere meravigliati e spaventati. Intanto, sulla base delle osservazioni visive e strumentali, il Centro Funzione Centrale per il Rischio Vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità elevata per l'area sommitale del vulcano e di criticità orinaria per le aree del medio versante, pedemontana e urbana. Le emissioni di ceneri però non sono state ritenute rilevanti. Infatti, l'aeroporto Fontana Rossa è rimasto operativo. Nel frattempo, prosegue l'attività di vigilanza attraverso i centri che si occupano del monitoraggio e della sorveglianza dei vulcani italiani. Una delle recenti e memorabili erozioni dell'Etna risale allo scorso dicembre quando, proprio alla fine dell'anno, il vulcano aveva salutato il 2014 con uno spettacolo di fuoco. Cenere e grossi lapilli erano caduti su giarre, riposto e altre zone limitrofe. A gennaio, invece, aveva cominciato la sua attività il cratere Voragine. Anche in quel caso, le emissioni di ceneri non erano state rilevanti. Appuntamento oggi pomeriggio a Palazzo Asmundo per l'inaugurazione della mostra storica fotografica dedicata alla Prima Guerra Mondiale, che ripercorrerà a cento anni di distanza gli eventi storici cruciali che cambiarono la storia italiana. L'evento si inserisce nell'ambito della manifestazione Il Filo della Memoria, dalla Grande Guerra alla Resistenza. L'esposizione fotografica ospiterà anche i cimeli provenienti da collezioni private e si avvale, fra gli altri, anche del prezioso contributo dell'Unione Nazionale Ufficiale in Congeto d'Italia e dei Cavalleggeri di Palermo. La nostra è un'associazione riconosciuta dal Ministero della Difesa, al pari di altre associazioni combattentistiche d'arma. E porta avanti una scuola di equitazione, di concerto con l'esercito, e poi tutta una serie di attività sociali che sostanzialmente rappresentano una sorta di cerniera tra il mondo civile e il mondo militare. Come associazione di cavalleria partecipiamo a questa mostra con i nostri cimeli e con la nostra attività. Presentiamo quello che è stata la storia della cavalleria in Italia e quindi è la storia dell'Associazione Arme di Cavalleria. E rappresenteremo quelle che sono le nostre attività e in particolare per la mostra alcuni cimeli che deteniamo come associazione e che volontariamente abbiamo messo a disposizione per far conoscere quella che è stata l'arma di cavalleria, l'attività della cavalleria. Ecco la copia originale dello statuto siciliano custodita per alcuni anni dallo storico Francesco Renda e il documento che attesta l'autonomia della Sicilia che avvenne prima dell'Italia repubblicana. Era il 15 maggio del 1946 quando l'isola divenne una regione a statuto speciale prima ancora dell'entrata in vigore della Costituzione che avvenne il 1 gennaio del 48. Dieci giorni dopo, quel 15 maggio, si registrò la prima seduta dell'Ars presieduta da Giuseppe Alessi morto ultracentenario alcuni anni fa. Uno dei padri dello statuto siciliano come gli Agrigentini, Gaspare Ambrosini ed Enrico Laloggia. Quest'ultimo fa autore del famoso articolo 38 dello statuto con il quale lo Stato si impegna a versare annualmente alla regione a titolo di solidarietà nazionale una somma da impiegarsi in base ad un piano economico nell'esecuzione di lavori pubblici. Una norma attuata solo per i primi anni. Un'autonomia rimasta solo sulla carta anche se è stato dato il via libera all'applicazione di un'altra importante norma, quella contenuta nell'articolo 37 con cui si stabilisce che spetta alla regione il gettito dell'imposta di produzione dei prodotti petroliferi. Un passo importante per la piena attuazione dell'autonomia finanziaria. E c'è un altro articolo dello statuto non ancora attuato. È il ventitresimo che prevede espressamente che gli organi giurisdizionali centrali debbano avere in Sicilia le rispettive sezioni, dunque anche la Corte di Cassazione. Chicovo, un amore nuovo. La Juventus ha definito gli ultimi dettagli per il trasferimento in bianconero di Paolo Di Bala. Secondo gli ultimi aggiornamenti la dirigenza bianconera ha raggiunto l'accordo con l'ormai ex attaccante del Palermo. Decisivo è stato l'incontro con l'agente Pierpaolo Triulti avvenuto nella giornata di ieri. Di Bala firmerà con i bianconeri un contratto quinquennale da 2,2 milioni di euro a stagione a salire, più bonus. La Juventus verserà nelle casse del club rosadero 28 milioni più 8 di bonus e 4 milioni di euro invece in calciatori. Una scelta ricadrà su Goldaniga del Perugia che avrà un valore di 2 milioni. Il secondo giocatore invece verrà scelto più avanti da Maurizio Zamparini. Le intese verranno ratificate quando sarà possibile formalmente con i moduli del prossimo calciomercato. L'operazione è conclusa. Tutto fatto fra le parti. Di Bala quindi passa alla Juventus. Notiziario Palermo. Francesco Bolzoni si è sottoposto nella giornata di ieri a un intervento di plastica e ricostruzione del tendine da kill destro. L'intervento è stato effettuato dal dottor Ferdinando Battistella presso il Policlinico dello Sport di Monza ed è perfettamente riuscito. Il numero 15 Rosenero inizierà già oggi la fase di riabilitazione. Alta tensione nel PD sulla riforma della scuola cambiamenti radicali o non la votiamo minacciano i dissidenti della sinistra DEM. Siamo partiti a settembre con la discussione vogliamo continuare a sprecare tempo replica il Premier Renzi. Stamane la Camera al via alle votazioni il disco verde è atteso il 20 maggio. La Corte Costituzionale non ha detto che non si può fare il blocco delle pensioni ma che in quel modo non andava bene. Il governo interverrà nel corso dei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Renzi restituiremo ha precisato una parte dei soldi. Si profila un venerdì di passione per i pendolari a causa dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale proclamato dall'USB contro Jobs Act e privatizzazioni. A Roma fermi bus e metro dalle 8 e mezza alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio. Escluse dall'agitazione Milano e Torino per preservare Expo e Salone del Libro. Continuano senza sosta le traversate dei migranti verso le coste siciliane. Nella sola giornata di ieri sono stati tratti in salvo 2.220 profughi in 11 operazioni di soccorso coordinate dal centro nazionale della Guardia Costiera. A due mesi dal voto il nuovo governo israeliano di Benjamin Netanyahu ha ottenuto ieri la fiducia della Knesset. 61 voti a favore e 59 contrari. La coalizione guida da Likud però ha appena un seggio di maggioranza e si avvale del sostegno di altre 4 liste. Addio a BB King autentica leggenda del blues si è spento nella sua casa di Los Angeles all'età di 89 anni nella sua lunga carriera ha venduto milioni di dischi e vinto ben 15 gremmi. Il moto mondiale fa tappa a Le Mans per il Gran Premio di Francia quinta prova stagionale in programma domenica in MotoGP guida la classifica iridata Valentino Rossi vincitore di due delle quattro gare fin qui disputate.